Amici bentornati sul canale 9.000 giri elaborazione autosportive. L'ultima volta abbiamo pubblicato un video su Ilaria Salis che mi sembrava abbastanza provocatorio. Se a qualcuno di voi è piaciuto ed è interessato seguite questo video per capire quali sono le ulteriori notizie, le ulteriori novità. Sigla! Come premesso abbiamo fatto recentemente un video, non tanto tempo fa, su Ilaria Salis e su tutta la vicenda portata avanti dal partito Verdi e Sinistra, sponsorizzato da Fratoianni, che come ho spiegato precedentemente mi sembra più una trovata di marketing politico che non un'operazione politicamente seria. Per fare una differenza, anche nella politica ci sono delle cose che hanno un senso e delle altre cose che sono, passatemi il termine, delle prese per il culo, degli specchietti per le allodole per essere più coerenti. Una delle domande, delle questioni che mi ero posto precedentemente, ero partito col fatto che questa persona è stata eletta perché ha ricevuto più di 173 mila preferenze, di cui il 10%, cioè 17.300 per essere precisi, solo nella circoscrizione di Milano. E lì mi ero posto un dubbio che ho esposto nel video e ho invitato tutti coloro che appunto vedevano il video a darmi una risposta, ho invitato tutti coloro di questi 17.300 che non sono tantissimi ma non sono neanche poi così pochi, almeno qualcuno, uno, due, tre, a rispondermi e a darmi una loro giustificazione, magari non neanche polemica, però a darmi una loro giustificazione sul fatto di aver scelto questa persona che dal mio punto di vista e non solo dal mio punto di vista presenta veramente tanti tanti lati oscuri, cioè non ha nessun valore aggiunto, presenta tanti lati oscuri e non vedo, come dire, un'utilità pratica di mandare una persona di questo genere che rappresenti l'Italia al Parlamento europeo, soprattutto una persona che guadagnerà un sacco di soldi che pagheremo noi. Mi sono posto questo quesito e speravo appunto di ricevere, come spesso succede con i miei video, di ricevere un certo numero di risposte. In effetti ho ricevuto tantissime risposte che mi hanno, come dire, hanno riconosciuto la qualità del video, l'interesse del video, ma quello che mi ha colpito, devo dire in maniera veramente strana, è che nessuno, dico nessuno di coloro che ha votato questa Benedetta Salis, si è preso la briga o ha avuto il coraggio di metterci la faccia e scriviamo in due righe dicendo che io, signor Pinco Pallo, ho votato la Salis per questo, questo, questo e quest'altro motivo. Ripeto, non per entrare in polemica, ma per capire un qualche cosa che è talmente lontano dal mio modo di pensare, dalla mia mentalità e non solo dalla mia, ma probabilmente da quella della maggior parte degli italiani che usano la testa, che mi sarebbe piaciuto, magari, ripeto, magari imparavo qualche cosa. Vi posso assicurare che nessuno, io spero ancora, perché poi i video che ci sono sul canale chiaramente rimangono e durano, si possono vedere anche dopo mesi, anni, quindi io sono sempre fiducioso che prima o poi qualcuno accetti, tra virgolette, la sfida e mi dia una giustificazione logica. Per il momento, ripeto, il video è in onda da più di dieci giorni e vi posso assicurare, lo potete vedere anche voi, che su, non so, 300, 400, come dire, iterazioni che ho avuto, nessuna verteva sul fatto di avere e di darmi una giustificazione sul perché hanno votato questa persona. Vabbè, la speranza non è mai l'ultima a morire, continuiamo ad aspettare. Già questo è un aspetto molto particolare, che non vorrei essere cattivo, frainteso, però comincia a venire, mi sospetto, che di queste 173 mila preferenze una parte di queste preferenze siano state pilotate in maniera abbastanza chiara, cioè più vado avanti e più mi convinco di questa cosa. Spero di sbagliarmi, spero di sbagliarmi, però questo segnale qua non è molto confortante rispetto alla tesi che vi ho esposto poco tempo fa. Comunque, al di là di questo, visto che stiamo parlando di questo elemento che adesso è ufficialmente diventato un membro del Parlamento europeo, come dicevo, mi ero dimenticato alla volta precedente, percepirà una valanga di soldi, perché percepirà in cinque anni diverse decine e decine di migliaia di euro pagate da noi. Allora, un conto è dire io pago qualcuno perché mi dà un valore aggiunto, perché rappresenta l'Italia, perché effettivamente costruisce qualche cosa per l'Italia. Un conto è spendere dei soldi, in questo caso non è tanto spendere, ma buttarli via, come io sono abbastanza abituato a dire le cose in maniera abbastanza brusca, è come buttarli nel cesso per una persona che non vale assolutamente niente e questo fa girare fortemente le scatole, perché nel momento in cui sei stata prelevata in maniera fortuita, hai fatto una vita borderline nei centri sociali e la prima volta che ti danno un microfono in mano la prima cosa che dici è una cazzata, perché la prima cosa che ha detto è che il fatto di occupare le case abusivamente è un diritto, perché in questo caso vengono tolte al racket, una che secondo me o alla sera si fa di tavernello scaduto o veramente non è lì proprio col cervello, si vede che queste qua dei centri sociali sono veramente della gente emarginata, ma emarginata proprio come modo di pensare, non per altri versi, ma proprio è gente che veramente è ai limiti della società e deve rimanere ai limiti della società perché sono dei pericolosi, c'è gente che la ragione in questa maniera qua secondo me non è, anzitutto non è né da stare ad ascoltare e c'è da attenzionare un attimino di più anche l'opinione pubblica perché come è sempre successo nel corso degli anni tutti quelli che hanno gravitato nei centri sociali hanno solo fatto dei gran casini, quindi il fatto di giustificare appunto il fatto che dai addirittura l'idea che occupare è un diritto, è molto pericolosa una frase di questo genere perché veicola l'idea che l'occupazione di una casa fatta in maniera abusiva diventa un diritto e non un reato, qui stiamo veramente travisando, ribaltando la realtà e andando contro la gente onesta e continuando a difendere la gente disonesta, io sono stufo, sono 40 anni che lavoro, cerco di fare il mio lavoro nella migliore maniera possibile, guadagno, pago le tasse e pretendo che tutto funzioni, quindi avere a che fare con della gente che è ai limiti della società, non sa cosa vuol dire guadagnare, anzi sa cosa vuol dire rubare perché è una persona del genere che non ha pagato l'affitto per tanti anni, che ha un debito di 90 mila Euro significa che ruba, quindi questa persona dal mio punto di vista non ci sono altre vie di uscita, ma come anche se europarlamentare il fatto che abbia rubato rimane, può essere anche la figlia del Papa, non me ne frega niente, chi ruba, ruba ed è giusto che venga appellato in quel modo, copri il tuo debito, salvi il tuo debito, torni a essere una persona normale, fin tanto che non lo fai e ti arroghi addirittura il diritto di andare a giustificare, per non andare a pagare questi soldi, di andare a giustificare che occupare le case altrui è un diritto, non so quanti di voi la pensino in maniera diversa da me, secondo me veramente pochi, allora anche in questo caso mi farebbe piacere, non solo ascoltare, penso che non arriveranno mai, ma comunque se per caso arrivasse qualcuno sarebbe veramente, lo incornicio, però un'altra trasmissione mettendo proprio in chiaro la risposta che qualcuno, il signor Bim, mister Bim mi manderà per giustificare il fatto che ha votato questa persona. Io però sono assolutamente convinto che mai come oggi bisogna essere delle persone coerenti, bisogna andare avanti con il proprio lavoro, bisogna cercare di essere delle persone anche disponibili nei confronti del prossimo e è anche giusto e corretto che noi veniamo gestiti da dei politici, ma dei politici che siano dei politici con la P maiuscola, più andiamo avanti e più ci perdiamo veramente in rivoli con persone che veramente non hanno nessun senso di esistere, una persona del genere dovrà rimanere nei centri sociali, dovrà rimanere in Ungheria e scontarsi la sua pena di 24 anni, non ci sono tante alternative, ha avuto la fortuna di beccare un altro s*** come Frattoiani, uno più uno li mette insieme, ma ha avuto una fortuna enorme, se no lei sarebbe rimasta nel posto dove era, ha sbagliato e per quello che ha sbagliato avrebbe pagato, punto, non ci sono altre cose, io sono una persona quadrata, se sbaglio pago e se non sbaglio però il mio modo di portare avanti la vita deve essere rettilineo, non deviare a destra e sinistra o seminare male, razzolare male, questo non va bene, quindi diciamo che anche questo video che tratta in maniera molto marginale, anzi non tratta minimamente il discorso delle auto, un video diciamo un pochino più sui generis, mi sono sentito appunto di fare un punto della situazione proprio per questo discorso qua che mi ha colpito che nessuno si è fatto vivo, io ripeto sono sempre qua ad aspettare che qualcuno si faccia vivo, per qualunque informazione vi chiedo come al solito di mettere un like di supporto che fa sempre bene, iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati di tutto quello che noi facciamo, per il resto sapete dove trovarmi, un saluto, alla prossima! Ciao!